Conferenza stampa di presentazione a Sulmona dell'atto di sindacato ispettivo a prima firma Luciano D'Alfonso sulla legge di bilancio della regione Abruzzo. 3.200 beneficiari di risorse, 12 milioni di euro, attribuite con un emendamento al progetto di legge recante, disposizioni finanziarie per la redazione di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della regione Abruzzo, legge di stabilità regionale 2023, risultano anche liste elettorali che hanno determinato attivismo politico locale, in spregio ai divieti ineludibili della legge 2 maggio 1974 numero 195. Un parlamentare che non è elemento di arredamento e che ha tra i suoi doveri e poteri l'attività di sindacato ispettivo rappresenta il problema conosciuto, emerso, lo rende noto e invita al ravvedimento per oso. Nel bilancio della regione Abruzzo, messo in piedi durante tutta una notte roccambolesca, c'è un elenco infinito di destinatari di contributi. Passino i comuni che hanno sempre legittimazione e legittimità, ma c'è un elenco infinito di associazioni, di amicalità, di confidenze, di promiscuità, di gelatinosità che sono riusciti ad avere contributi così nella notte come dei funghi, senza attività istruttorie, senza procedimenti, senza avviso, senza pareri degli uffici competenti. Perché dico questo, senza pareri? Perché io ho scoperto, è una lettura veloce, almeno due liste elettorali presentatesi nella competizione locale che sono state inserite nell'elenco di questi fortunati, fortunosamente finanziati. Se gli uffici della regione, che io stimo, quei funzionari avessero potuto vedere, avessero potuto istruire, avrebbero impedito che entrassero in quell'elenco. Perché parlo di un elenco infinito? Perché è lunghissimo e costa 12 milioni di euro. Perché non è stato ancora definito, è ancora in lavorazione, come se fosse una gomma elastica fatta di saliva. Ogni volta lo rimaneggiano, probabilmente anche adesso è sotto maneggiamento. Allora voglio considerare questo maneggiamento, che è ancora in corso, come la possibilità per un ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso è un istituto, consente quella che io chiamo la giustizia riparativa, nella quale credo. Io aspetterò fino a venerdì. Se venerdì non mi rendo conto della correttezza recuperata, procederò rispetto alle due magistrature. Questa conferenza stampa è un dono, è un obolo che io faccio a quei consiglieri regionali, che purtroppo hanno il disordine nella loro condotta, che hanno prodotto un procedimento sbagliato, viziato, diseducatore, dicendo loro, cogliete questa occasione per correggere. Fate in modo che esca l'elenco. Ho fatto anche un'interrogazione al Parlamento, andrò a ragionare il generale dello Stato per dire che non è possibile che venga così maltrattato il denaro pubblico. Mi dispiace molto per la sofferenza degli uffici regionali che vengono sottoposti a nascondimento, a impedimento, perché organizzano questa specie di lavacro con l'acqua piovana e ogni volta non si capisce qual è il prodotto finale.